Buongiorno, sono Pietro Merlo e sarò il vostro docente del corso di SketchUp base qui a Sintesi Uniforma. SketchUp è il primo software che ha rivoluzionato il modo di progettare in tre dimensioni. Con il corso base impareremo in pochi passi come costruire un soldo partendo da un disegno CAD o da una scansione d'immagine. SketchUp è facile e intuitivo ma è fondamentale compiere i primi passi in modo corretto per poter affrontare la realizzazione di modelli più complessi. Con SketchUp io posso realmente e direttamente progettare in 3D partendo dalla semplicità di una palimetria e trasformandola con pochi semplici comandi in un solido, un volume, un modello. Vedremo come ci si muove nello spazio 3D di un progetto e come lo si completa con materiali e texture. Impareremo a sfruttare la forza di SketchUp, ossia trovare, scaricare e modificare i componenti online gratuiti che ormai tutte le aziende che operano nel campo della progettazione, dall'architettura all'arredamento, producono. Questa vasta galleria di modelli 3D è in continua evoluzione ed espansione ed è gratuita. Infine vedremo come creare un video che ci faccia muovere dentro e fuori il modello del nostro progetto.